Napoli, Osimen recupera. C'è novità da Castelvolturno. Buone notizie per Luciano Spalletti. Si avvicina l'erentro di Osimen per la sfida di ritorno col Milan in programma martedì alle ore 21 allo Stadio Maradona. Questa mattina l'attaccante nigeriano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale in campo. A cinque giorni dal secondo atto dei quarti di finale di Champions League l'allenatore del Napoli spera di poter contare su Osimena. Napoli, chi mancherà nella partita di ritorno col Milan non ci sarà, invece. Simeone, che ha svolto terapie. Il bomber argentino sarà fermo per circa 20 giorni e conta di tornare per la sfida del 29 aprile contro la Salernitana. Nella gara di ritorno col Milan, intanto, non ci saranno neppure gli squalificati Kim e anguissa. Piccola emergenza per Spalletti che, però, spera di ritrovare il bomber nigeriano. Osimen si avvicina al rientro. Virgola.